Bene, eccoci tornati di nuovo insieme in diretta. Vogliamo adesso aprire, come facciamo quotidianamente, ormai dal 1 maggio, un ampio spazio dedicato alla preghiera del Rosario che ogni sera alle 20.45 si tiene nel Santuario di Santa Maria delle Grazie con protagonisti diversi ogni sera. Il mese di maggio il Santo Rosario dei giovani è con i giovani. Ieri, i protagonisti, quindi coloro i quali hanno accompagnato il quadro della Madonna delle Grazie, reso l'omaggio floreale, letto la preghiera, alcuni rappresentanti della fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Ollus di San Giovanni Rotondo. Ecco, vediamo le immagini. Uno dei momenti sicuramente più belli e significativi quando il quadro e l'icona della Vergine delle Grazie, della Madonna delle Grazie, viene portata in processione nel Santuario e poi appunto viene in questo caso accompagnata da alcuni rappresentanti della fondazione Centri di Padre Pio Ollus. E noi abbiamo uno appunto dei rappresentanti dei centri Padre Pio, il dottor Francesco Degli Santi, rappresentanti perché lei dal 1984 presta il suo servizio in quest'opera. Buongiorno dottor Degli Santi e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Nel 1984 lei ha iniziato il suo cammino in quest'opera di Padre Pio. Ha conosciuto Padre Michele Placentino, l'ispiratore, il fondatore dell'opera. Ci vuole raccontare qualcosa del suo rapporto con Padre Michele, come lo ha conosciuto? Io sono stato contattato attraverso qualche altro collega professionista che già era insediato presso i centri, allora erano centri di abitazione e mi contattò, mi invitò e nacque un rapporto. Investì su di me, nel senso, disse, vabbè, tu, un po' come un ravdomante, no? Tu potrai occuparti di una serie di cose che stavano nascendo in quegli anni. Perché era un momento molto florido, nel senso che c'era un grosso bisogno di intervenire nell'ambito della disabilità. Allora si chiamava in altra maniera, oggi la chiamiamo disabilità. E quindi c'era da parte del territorio provinciale un bisogno di implementare servizi in tutta la realtà della provincia di Foggia. E lui è stato un catalizzatore di questo processo. Questo bisogna andarlo a dire. Perché c'erano in parte i servizi pubblici che naturalmente erano insediati soltanto nei comuni grandi, San Severo, Foggia, Manfredonia. Mentre nelle periferie, nei luoghi più distanti, non c'era una risposta di servizio. Padre Michele fece questo. Andò dagli ultimi, come diceva lui, no? Cioè andò in quei comuni dove non c'era un servizio. E ha fatto un'opera grandiosa. Anche con la sua personalità carismatica. Perché bisogna avere un grande spessore per poter in qualche maniera creare una realtà come questa. Fondare una realtà come questa. E andando in questi piccoli comuni, chiamato dalla gente sostanzialmente. Poi anche dagli amministratori con i quali lui interagiva con una certa semplicità. Però veniva ascoltato perché era semplice ma allo stesso tempo aveva un suo spessore. E' riuscito a costruire una grande realtà in comuni, parlo di comuni, in cui molto spesso i disabili, stiamo parlando pochi anni dopo le varie riforme, l'integrazione scolastica e così via, anni in cui i disabili venivano, diciamo, chiusi nelle case o nelle strutture di accoglienza. Certo, non c'è l'integrazione che c'è oggi. C'era la vergogna, invece è questo lavoro. Dottor Delisanti, molto interessante quello che sta dicendo, torneremo su questo argomento. Però prima esigenze televisive, dobbiamo restituire la linea alla regia. Brevissima pausa e poi ancora insieme. Restate con noi. Torniamo insieme in diretta, siamo con il dottor Francesco Delisanti, dal 1984 presta il suo servizio presso la Fondazione Centri di Riabilitazione Ollus Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Lo abbiamo invitato in quanto ieri, protagonisti del mese di maggio, il rosario dei giovani e con i giovani, proprio alcuni rappresentanti dei centri Padre Pio hanno portato l'icona della Vergine, hanno letto la preghiera e fatto l'omaggio floreale. Ma presenti appunto diversi operatori di questa importante struttura. Dottor Delisanti, prima appunto stiamo parlando dell'importanza dell'inclusione delle persone con disabilità, dei bambini che, come giustamente diceva lei, diversi anni fa, diversi decenni fa, la disabilità era vista con una vergogna. Oggi invece si parla appunto di inclusione, dell'importanza dell'inclusione. Che cosa significa per lei prestare servizio in un'opera così importante, delicata, soprattutto in un'opera nata nel nome di Padre Pio? Allora, lavorare per tanti anni significa anche avere un vissuto di attaccamento a questa esperienza, sia nel nome di Padre Pio, sia nell'esperienza del fondatore, Padre Michele, ma proprio della realtà nel suo complesso, cioè che ha avuto un percorso importante, con tante fasi, con tante evoluzioni. Quindi questo ha rappresentato un punto. Un particolare elemento che mi ha in qualche maniera sensibilizzato particolarmente è stato un po' qualcosa che si diceva anche ieri, che diceva il Dottor Di Pilla, in quanto direttore generale, che accanto alla dimensione scientifica, alla dimensione tecnologica, poi c'è anche quella cosa umana, che oggi si viene chiamato in sanità umanizzazione delle cure. Ecco, forse il Padre Michele, un po' tutto il percorso che è stato fatto, si è tenuto sempre conto, data sempre attenzione a questa cosa dell'umanizzazione delle cure, cioè di non scivolare un rigido tecnicismo che poi alla fine fa dimenticare quello che è l'utente, la persona che hai di fronte, con tutto il bagaglio di sofferenza, di dolore, che a volte si accompagna, delle famiglie, che spesso si trovavano a gestire questi bambini, anche in una condizione di grande isolamento, anche di abbandono se vogliamo. Questo sostegno, diciamo, psicosociale che è avvenuto attraverso i vari servizi che si sono dislocati, che si sono disseminati all'interno del territorio provinciale, ha permesso in qualche maniera di curare, ma nel senso più ampio del tema, non in senso strettamente sanitario, medico, ma in senso... La presa in carico del paziente. La presa in carico più vari del paziente, anche negli aspetti psicologici, ma anche di integrazione, di inclusione, di accettazione, di accoglienza. Dottor Delisanti, la ringrazio per le sue parole. Rimanga con noi, perché adesso vogliamo ascoltare la riflessione tenuta ieri da padre Piero Vivoli, presidente della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Piollus, che ha presieduto il Santo Rosario. Ascoltiamo le sue parole. Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Questo tema della giornata mondiale della gioventù di Parigi del 1997 è forse uno dei dialoghi più brevi che noi troviamo nel Vangelo tra i discepoli e Gesù. E tra l'altro è costituito da una domanda, se ci pensate, anche molto semplice e banale. Quante volte l'abbiamo fatta noi questa domanda? Dove abiti? A quante persone l'abbiamo chiesto? E la risposta di Gesù a questa domanda è una risposta enigmatica, che però nasconde un senso profondo, e lo vedremo. Ma mi voglio fermare un attimo sulla domanda. Maestro, dove abiti? Perché nella sua semplicità questa domanda di fatto nasconde è una dei desideri più profondi, più belli, più grandi che l'uomo conserva nel cuore, l'uomo di ogni tempo. È il desiderio della pienezza, è il desiderio della sazietà, è il desiderio della gioia stradipante, il desiderio della meta che viene prima intravista. Noi camminiamo tanti anni, intravediamo la meta e poi finalmente la possiamo toccare. Guardate, questo senso di pienezza è tradotto un po' nella Bibbia sempre. Ricordate le parole del vecchio Simeone, quando dice Ora lascia, oh Signore, dopo aver visto Gesù. Ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza. Sono arrivato. Basta. Ho raggiunto questa sazietà e questa pienezza a cui ho sempre anelato. E Paolo gli fa eco in qualche modo con quelle parole che esprime nella seconda lettera a Timoteo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi consegnerà in quel giorno. Paolo è un uomo plasmato nel bene e nel male dalla vita, ma è un uomo felice. È un uomo felice. E questo è ciò a cui noi tutti aneliamo. Questa domanda è una domanda semplice, breve, ma descrive tutto il desiderio di una meta. Perché, cari fratelli, l'uomo non è fatto per essere un randaggio, per andare in giro senza una direzione, ma per essere un pellegrino. Un pellegrino. Noi siamo chiamati ad essere pellegrini. Quanti ce ne sono qui di pellegrini? Sempre sulla strada, sempre in cammino, ma sempre orientati verso una dimora tangibile. La risposta di Gesù. La risposta di Gesù è una risposta inattesa. Questi discepoli avevano grandi attese. E lui che gli risponde? Ma avesse citato almeno un paesino, un borghetto, un nome di una grande città o piccolo, è uguale, niente. Gesù non risponde con un luogo preciso, ma dice venite e vedrete. Richiama questo senso del mistero, questo senso della dinamicità della vita. E in verità la risposta di Gesù è una risposta illuminante, poiché ricorda ai discepoli che è una utopia pensare che la felicità, che la pienezza, si trovi in un luogo specifico, in un luogo ben preciso, magari sempre diverso da quello in cui noi siamo. Perché succede sempre così. Sembra che felici siano sempre gli altri. E che nella nostra vita non ci possa essere felicità. Al contrario, Gesù dice ai discepoli e a ciascuno di noi che ogni luogo nel quale è il Signore è un luogo di gioia e di pienezza. Gesù dice a ciascuno di noi che ogni luogo dove il Signore si incarna attraverso un gesto di tenerezza di qualcuno una parola buona di un altro, il silenzio rispettoso di un altro ancora. Ciascuno di questi luoghi e di tanti altri è una dimora di felicità. Persino i luoghi più paradossali e improbabili possono esserlo. Questa sera noi pregheremo i misteri del dolore. Ebbene, anche l'abbandono, il tradimento, la violenza, il giudizio, la condanna, tante morti che possiamo attraversare. Anche tutto questo, cari fratelli, vissuto con Gesù nella fede può essere un luogo di pienezza perché può diventare un grande spazio di perdono. E noi lo sappiamo cos'è il perdono. Il perdono è la più fantasiosa ed esuberante espressione dell'amore che riscalda e sazia sempre ogni cuore. La Vergine Maria che preghiamo questa sera e che, come tutte le mamme, conosce in un modo unico tutti i lineamenti del volto e dell'anima di Gesù ci aiuti a riconoscere in ogni situazione della nostra vita la presenza del Figlio Suo per avere la certezza che anche quello è e sarà una dimora di felicità. Amine. Queste le parole, la riflessione di Fra Piero Vivoli, presidente della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Ollus, ieri presenti al Santo Rosario dei giovani e per i giovani. Lo ha ricordato all'inizio Fra Piero, ieri si è ricordata la GMG di Parigi del 1997. Io ringrazio di cuore per la presenza, per la disponibilità, il dottor Francesco Dellisanti che appunto presta il suo servizio presso i centri Padre Pio. grazie per la sua testimonianza, buon lavoro. Noi ci fermiamo ancora qualche istante, lì nella regia poi parleremo di comunicazione, ci collegheremo con Catania. State con noi.